Qual è l'ortaggio che nell'arco dell'anno consumate più frequentemente? Ortaggio, pomodori, può essere un ortaggio? Spinashi Insalata Ah l'ortaggio, insalata, radicchio e dopo cime di rapa Di zucchini Beh insalata, pomodori, poi anche peperoni, zucchine, fagiolini, tutto Ortaggio, meglio uso tutti, diciamo, ma pomodori Ma il radicchio forse, il radicchio Ma direi un po' tutti perché noi facciamo molto uso di verdura Quindi però in particolare l'insalata Le zucchine Reperibili sul mercato tutto l'anno sono le zucchine originarie dell'America centro-meridionale Appartengono alla stessa famiglia dei cetrioli, meloni e zucche gialle E ne esistono molte varietà Sono state al centro di molte discussioni per l'alternare del loro prezzo Più conveniente è acquistarle nella tarda primavera e nell'estate Si consiglia di consumare prodotti di stagione perché non subendo delle trattamenti Hanno il loro patrimonio, soprattutto vitaminico, perfettamente conservato Anche se in realtà le zucchine sono disponibili sul mercato durante tutto l'arco dell'anno I principi nutrizionali presenti nelle zucchine sono l'acido folico, il potassio, un minerale molto importante E anche vitamina C Non dimentichiamo che le zucchine sono praticamente prive di grassi E quindi costituiscono un apporto di fibre e grezze importanti per il nostro organismo Cotte o crude le zucchine si sposano a molte ricette della cucina mediterranea Tutte le verdure preferibili vengano consumate crude perché il massimo delle proprietà nutrizionali Sotto profilo soprattutto del patrimonio vitaminico in particolare È conservato allo stato crudo In caso di cottura è opportuno vengano cotte a bagnomaria e comunque in tempi i più rapidi possibili Non dimentichiamo che le vitamine, in particolare la vitamina C, sono molto termolabili Cioè denaturano a cotture importanti spinte ad alte temperature Per le loro proprietà forniscono poche calorie e non hanno grassi Indicate quindi per chi desidera stare in linea Ricordate però che è un prodotto facilmente deperibile e non resiste in frigorifero per più di 3-4 giorni Le zucchine come tutte le altre verdure consigliamo di cucinarle nel cestello a vapore Conservano meglio tutte le loro proprietà nutrizionali Grazie per la visione! Generally con l'in impeghiere, la tua forks our at interactions Hai Grazie a tutti.